Le immagini delle telecamere della videosorveglianza, quelle registrate da dispositivi di sistemi privati, potrebbero dare una mano per individuare il responsabile o i responsabili dell'incendio che nella notte tra sabato e domenica ha interessato una fabbrica di mobili di Bonito. La nota azienda, presente da anni sul territorio, è stata fatta oggetto di quello che a tutti gli effetti sembra essere un attentato. Su questa pista si sono incentrate fin da subito le indagini dei carabinieri di Ariano che hanno ritrovato sul posto tracce di liquido infiammabile. Le fiamme appiccate all'esterno della fabbrica di mobili per ufficio hanno danneggiato solo la sala cinesca dell'attività posta al piano terra di un edificio. Lo spegnimento dell'incendio non ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme infatti si sono spente da sole e l'allarme è scattato ieri mattina quando uno dei proprietari si è reso conto dell'accaduto. Ascoltati i titolari dell'azienda, nessuno di loro riesce a darsi una spiegazione rispetto all'episodio. L'arma non esclude alcuna pista dal racket delle estorsioni alla vendetta personale. In queste ore si proverà ad ascoltare anche altri possibili testimoni per verificare se nei giorni precedenti qualcuno abbia notato movimenti sospetti nei pressi dell'attività. Quanto accaduto è stato sconcerto in tutto il paese. La comunità di Bonito si interroga rispetto al grave episodio di cronaca e intanto Bonito non è un caso isolato. Anzi nelle ultime settimane simili situazioni si sono verificate anche in altri comuni dell'Irpinia. A cominciare dalla bomba carta fatta esplodere dinanzi ad una billetta alla frazione Embricera, tra Sommonte e Capriglia. Alle cartucce il liquido infiammabile fatte ritrovare in un cantiere di San Michele di Serino. Questi i casi più eclatanti che sommati tra loro ci ricordano che in tutto siamo al quinto episodio dove si parla di attentato.